Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, io sono Orgasmic e vi do il benvenuto in questo nuovo video che vi porto sul canale che si chiamerà circa, più o meno, FIFA Mystery. Mystery perché andiamo ad analizzare un caso abbastanza strano che è accaduto tra il passaggio di FIFA 14 e FIFA 15 di un giocatore in particolare, ma comunque se avete letto il titolo o avete visto la miniatura più o meno l'avrete capito. Quindi prima andiamo un attimo a vedere questa squadra che è una sorta di squad builder che vi porto, così molti mi hanno chiesto squadre molto più costose, approfittatene adesso che vi faccio vedere questa squadra che è molto molto forte e dopo vedremo anche l'attaccante. Comunque parliamo un po' in generale della squadra, Sirigo è un ottimo portiere anche se a volte fa delle boiate, però questo succede un po' con tutti i portieri, i terzini non sono il massimo della vita, ma vabbè Maikon bisognava metterlo per forza, Bernat se volete potete prendere Alaba, ma per quello che costa non so quanto possa valere. I due centrali sono molto buoni, soprattutto ovviamente Thiago Silva, non c'è nessun tipo di dubbio, visto che Thiago Silva è forse il miglior difensore centrale del gioco. Centrocampo solido ma comunque anche di qualità grazie a Nainggolan upgrade, e Gustavo che recupera tanti palloni, il fantasista principale della squadra è Mertens che è veloce, ha un ottimo tiro e serve dei buoni palloni e in attacco abbiamo Ribéry che non mi ha fatto impazzire, però vabbè tralasciamo e Mirajas che invece mi è piaciuto abbastanza. Mentre andiamo a vedere l'attaccante che è Venteke ed è di lui che adesso parleremo un attimino per capire un po' cosa è successo a questo giocatore, dopo ci saranno le clip dove analizzeremo un po' le varie statistiche eccetera. L'anno scorso Venteke era Dio, cioè praticamente tu pensavi ad Ultimate Team e pensavi subito a Venteke o ai Barbo eccetera, però Venteke era uno dei giocatori più utilizzati senza ombra di dubbio su Ultimate Team, perché? Perché aveva una buona velocità ma soprattutto aveva una delle caratteristiche che più contraddistingueva FIFA 14 Ultimate Team, cioè la forza fisica, aveva un rapporto velocità-qualità-forza fisica che era allucinante, forse era il migliore del gioco per quel aspetto lì, inoltre comunque era un grande finalizzatore, aveva un buon tiro eccetera eccetera e essendo un gioco molto basato sui colpi di testa era l'ideale Venteke. Cosa è successo quest'anno a Venteke? Ne rispondiamo a questo quesito guardandoci qualche clip e parlando un po' delle sue statistiche. Come fa un giocatore ad essere così importante in un gioco automaticamente diventare praticamente inutilizzato, calcolato zero nel gioco successivo, quando tutte le statistiche che aveva l'anno scorso sono praticamente le stesse quest'anno, se non alcune migliorate. È una cosa che è difficile, non si riesce a spiegare, è diminuita solo di uno la velocità e solo di uno il dribbling, quindi di poco conto questa modifica, però abbiamo un tiro migliore, un fisico più alto, un passaggio più alto eccetera eccetera. Sono cose veramente, un'incognita veramente difficile da spiegare. Sicuramente il gioco quest'anno è molto più veloce e servono giocatori con molta più agilità di Venteke, però comunque sia la sua figurona con me l'ha fatta. Mi ha fatto sei gol in quattro partite, come vedremo dopo nella schermata finale, e mi sono trovato bene. Certo, non è il Venteke dell'anno scorso ed è per questo che indaghiamo in questo video, non è più quel giocatore che prende palla e parte in mezzo a 250 difensori e non la perde mai per via del suo fisico. Quest'anno il fisico conta molto di meno ed è forse questo il maggior motivo, il motivo più importante per cui nessuno utilizza Venteke. Io online non l'ho mai visto, ho visto più Lukaku rispetto a Venteke che non ne ho visto praticamente manco uno. Invece secondo me è un giocatore che ancora qualcosa ha da dire e che con il prezzo che costa solamente circa 700-750 ma fate anche 800 crediti, secondo me è un giocatore ancora molto utilizzabile su questo gioco. Come possiamo vedere dalla squadra qui, intanto qui è infortunato Venteke, Venteke mi ha fatto sei gol e un assist in quattro partite, giocando da unica punta nel 4-3-4 e secondo me è una media grandiosa, considerando il fatto che comunque segnano anche i centrocampisti, segna anche il trequartista e le ali ovviamente. Un giocatore alto 1,90 quindi altissimo, con una buona velocità e una forza fisica esagerata di 92 se non sbaglio, non può non essere utilizzato per il prezzo che costa poi soprattutto, in più ha 4 stelle piede debole che sono ottime e 3 stelle abilità che vanno bene per un giocatore delle sue caratteristiche. L'unica cosa negativa è sicuramente il work, se avesse alto d'attacco sarebbe sicuramente meglio di adesso, però secondo me non è da buttare questo giocatore, è da provare quantomeno, infatti vi invito a provarlo perché secondo me merita di essere utilizzato almeno una volta. Comunque ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se avete altri misteri da propormi di FIFA ovviamente, fatelo nei commenti che magari ne tratteremo nei prossimi episodi, se ci saranno ovviamente. Se vi è piaciuto questo video basta che lasciate un like, a 400 mi piace uscirà un nuovo video, fatemi sapere poi cosa preferite, nei commenti iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!